È stata un'emozione indescrivibile, inaspettata, arrivata in un momento in cui secondo me ce lo meritavamo più di tutti, in merito del mister o staff, ma un applauso particolare al nostro gruppo che è stato un gruppo speciale, fatto di ragazzi giovani con qualche innesto di esperienza che ci ha dato il giusto equilibrio e vorrei fare un ringraziamento speciale a tutte le persone che hanno contribuito a questo sogno. Il mister, non perché è il nostro mister, ma credo sia agli occhi di tutti che è un grande professionista, un grande lavoratore con delle idee che in Serie C secondo me facciamo fatica a trovare e che soprattutto a noi giovani ci ha dato tanti insegnamenti e che ne faremo tesoro sicuramente. Sì, promozioni ottenute è stata una bella soddisfazione, stadio pieno, personalmente l'ho sentita un po' più degli altri perché ci sono entrata la prima volta a 14 anni e adesso rientrarci da campione tra virgolette è stata un'emozione bellissima. Come ti ho detto prima siamo un gruppo giovane che quindi si sa anche divertire da ragazzi, però all'esterno siamo tutti bravi ragazzi che si comportano da capolista anche in questo. La cosa più pazza che avete fatto? Qualcuno si è diventato i capelli gialli e blu a tavola di là, qualcuno direttamente tutti gialli, quindi ci siamo divertiti durante l'anno ed è stato un segreto fondamentale. Ma io è il più matto, il più matto di lui. No, siamo un gruppo tutti un po' matti, ci siamo divertiti insieme e va bene così. Ho ancora un contratto che mi lega per l'anno prossimo alla Juve Stabia, quindi non ho problemi a pensare altrove, qui è stata la mia casa per tanti anni e spero lo sarà per altre tanti, quindi sono tranquillo e spero di poter far parte anche l'anno prossimo della Juve Stabia. Come ho detto prima siamo un gruppo molto giovane con i capitani Gerghi e Mignanelli che sono più esperti, Andreoni che ci hanno saputo dare quella scossa nel momento in cui ne avevamo bisogno, soprattutto nei ragazzi perché non è facile, comunque delle pressioni importanti si sono sentite durante l'anno e secondo me si è creato un mix perfetto che ha fatto sì che potessimo raggiungere questa promozione.